Ma arriverà. Prima o poi. Fra non molto dovremo combattere. E dovremo anche vincere. Deve esserci qualcos'altro che puoi fare. E questo è il fatto. Altri dialoghi, altri... Non c'è altro modo. Non dire così. C'è sempre speranza. Sì. E staremmo tutti meglio se non ci fosse. E staremmo tutti meglio se non ci fosse.